I collaboratori del generale Figliuolo oggi sono stati in Abruzzo per controllare i lavori sulla rete ospedaliera. Recentemente il Covid Hospital di Pescara è stato ampliato aggiungendo 66 posti letto in terapia intensiva e 92 in subintensiva. La delegazione della struttura commissariale si è complimentata, ha dichiarato l'assessore Verì. La struttura commissariale si è complimentata per i risultati e i raggiunti e soprattutto sta prendendo atto di tutte quelle innovazioni sia da un punto di vista strutturale sia da un punto di vista di strumentazione che tutte le nostre ALS hanno messo in atto. Questa mattina visiteranno la ALS di Pescara e la ALS di Chieti. E a seguito della richiesta alle ASL da parte della regione di presentare il piano di rientro, l'opposizione va all'attacco sui conti della sanità. I conti non sono in ordine nemmeno nelle altre regioni, si difende la Verì. Aspettiamo che arrivino risorse da Roma. Quando si parla di conti, di disavanzi, così come viene definito dall'opposizione, si parla proprio di quei fondi che abbiamo usato per l'emergenza urgenza, i fondi Covid. Ed è un problema che viene presentato a livello nazionale, sui tavoli nazionali, in modo di avere quella risposta che va per tutte le regioni. Ci sono delle regioni che hanno usato i fondi europei per coprire quei disavanzi. Noi invece abbiamo chiesto una rimodulazione, quindi un'oscillabilità nell'anno precedente. Oggi chiediamo un aumento dei fondi del sistema sanitario proprio per gestire questa emergenza.